Il 23 giugno scorso alle 12.27 i residenti di posta Fibreno, situata nella valle del Comino, provincia di Frosinone, hanno avvertito una scossa di terremoto. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'intensità della scossa è stata di 3.2 gradi della scala Richter. Nonostante l'evento abbia causato paura, al momento non sono stati segnalati danni o feriti. Le uniche chiamate ricevute dai vigili del fuoco sono state per segnalare l'accaduto. Abbiamo chiaramente percepito la scossa, afferma Damo Pantano, sindaco di posta Fibreno ed ex candidato al Senato. Nel paese c'è molta preoccupazione, considerando gli eventi precedenti. Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni.